buongiorno qui stiamo sempre a zapponeta e questo qua è sempre lo scarico del consorzio di bonifica dove va anche l'acqua piovana guardate che per color verdastro questo è il colore del mare nel mese d'agosto diventa verdastro diventa marrone le autorità dicono che sono le alghe intelligenti ok però di estate qua non scaricano se non negli eventi straordinari cioè quando piove forte sono costretti ad aprire e questo qua sta questa specie di coccodrillo sta neanche 50 60 metri dai liti ok qua d'estate si mettono gli ombrelloni quindi noi dobbiamo fare sempre la pubblicità buona ma infatti zapponeta è un bellissimo paese veramente un bellissimo paese peccato che quelli che l'amministrano non lo vogliono bene peccato io vedo ancora le strade della villa rotta non vedo niente di positivo se non le ricorrenze si festeggiano soltanto le legalità si festeggiano soltanto le apparenze ma le cose concrete quando incominciamo a farle e questo è l'ultimo dell'anno vedi che bel regalo all'ultimo dell'anno a dire che mi fate schifo e poco veramente siete davvero vergognosi e se avvero voi piace vivere da apparenza a me no quindi le autorità dove stanno dove stanno vergognatevi tutti quanti se è soltanto dei finti perbenisti ecologici in giacca e cravatta mi fate veramente schifo tutti quanti zapponeta 31 dicembre 2019 paese che da ritrovare esce anche l'acqua piovana